E' una domanda a cui non ho dato una risposta sufficiente prima, esaustiva. Non c'è un'imposizione mia per cui io vorrei costringere i gruppi parlamentari a fare le cose che piacciono a me. Non c'è un braccio di ferro. C'è una vicenda molto più semplice ed è naturale, vorrei dire, nella vita di un partito. 2 milioni e 900 mila persone si sono espresse, hanno indicato qual è la direzione del PD. Adesso nel confronto, che domani peraltro avrà un primo appuntamento di conoscenza, di dialogo tra i gruppi parlamentari, la segreteria, le strutture che verranno fatte, perché vi ricordo che domenica sarà eletta una direzione, questa direzione sarà integrata da 20 persone scelte dal segretario proveniente dal mondo della cosiddetta società civile e alla luce di questo ci sarà una discussione sulle singole questioni.